Un saluto a tutti i lettori e agli amici di AZ Informa, quest'oggi da Vezzano con la senatrice Valeria Valente, già presidente della diciottesima commissione contro il femminicidio, potremmo utilizzare il contro in più da aggiungere. Un tema questo di cui in questi giorni si è tornato a parlare prepotentemente non solo per i fatti di cronaca che hanno portato all'attenzione nazionale alcuni deprecabili avvenimenti, quanto anche per il 25 di novembre che è una giornata, una testimonianza di questo impegno. Ogni giorno però deve essere il 25 novembre. Oggi qui da Vezzano parliamo di costruire una cultura del consenso. Potremmo dilungarci molto, vorremmo farlo, i tempi sono quelli che sono, non vogliamo rubarle tempo in eccesso, però sicuramente se posso farvi una domanda, che vorrei farvi una domanda, è quella di come si costruisce una cultura del consenso in una società dove effettivamente il dialogo sembra sempre più mirato alla sopraffazione, a cercare di imporre un pensiero e non una condivisione. Ma intanto raccontando e leggendo sempre la violenza lì dove c'è, senza sottacere, senza negare, senza sminuire. Quindi noi con un disegno di legge che abbiamo presentato nella diciottesima e che abbiamo ripresentato nella diciannovesima legislatura, proviamo ad affermare la necessità del consenso per non qualificare l'atto sessuale a una violenza. Per noi tutte le volte che un atto sessuale si compie senza il consenso della parte, dell'altra parte, si tratta di violenza. È una cosa semplicissima, peraltro adottata già in tantissimi paesi in Europa, soltanto in Italia si configura la violenza solo se stiamo di fronte a minaccia o a esplicita violenza. Quindi significa che bisogna provare che in qualche modo la donna si è sottratta o ha quantomeno provato a dire di no. Ma molto spesso tutti gli studi scientifici ci dimostrano che soprattutto di fronte a una violenza, in modo particolare di fronte a una violenza sessuale, la reazione forse addirittura più diffusa è che la donna è sostanzialmente immobile, inerme, inerte, cioè come se non riuscisse proprio minimamente a reagire in alcun modo. È una reazione del tutto naturale alla quale invece noi rischiamo di legare, soprattutto per gli effetti giuridici, per come si deve provare e si deve costruire la prova nel corso del processo, effetti che tendono a vittimizzare nuovamente la donna, ovvero lei tutto sommato, per questo c'è una cultura arcaica se volete che viene da lontano, che tutto sommato la donna in qualche modo ci sia voluta stare dentro quella dimensione. Di ricerca della giustificazione. Esatto, giustifichiamo lui e colpevolizziamo lei e questo è sempre il tema dentro la violenza e forse la vera sfida culturale che noi abbiamo totalmente mancato in questi anni. Abbiamo costruito pene, inasprito le pene, costruito nuove fatti specie di reato, quindi abbiamo lavorato moltissimo sul piano repressivo punitivo, ma nonostante questo le donne continuano a subire non solo tutti i tipi di violenza possibili e immaginabili, ma soprattutto continuano a morire per mano degli uomini, quindi qualcosa abbiamo mancato. Dove abbiamo mancato? Dove il sistema fallisce? Esattamente qui, nel non riuscire a cambiare la mentalità e qui voglio essere esplicita, non cambia la mentalità di tutti, non cambia la mentalità di chi la violenza la agisce, non cambia la mentalità di chi la violenza la subisce, non cambia la mentalità di chi la racconta, non cambia la mentalità di chi la deve leggere e giudicare. Quindi il tema vero è tentare invece di entrare in questo tipo di cultura e scardinare alcuni modelli e quindi intanto colpevolizzare lui, non c'è alcuna giustificazione, non c'è nessun comportamento, nessun tipo di comportamento che la donna può mettere in atto e può giustificare un atto violento, ovvero qual è l'atto violento? Quello fatto senza il consenso della donna, quindi anche nel corso di un processo il tema non sarà che dobbiamo provare, che lei deve provare ad aver detto no in qualche modo, di aver detto no, di essersi opposta, perché lei potrebbe anche semplicemente, o perché è drogata, o perché, ripeto, semplicemente resa immobile da una reazione psicologica assolutamente normale addetta dagli studi. Le circostanze sono molteplici. Esatto, quindi lei potrebbe non aver reagito in nessun modo, cioè nonostante questo non può minimamente implicare che quell'atto non sia letto come violenza. Allora il tema non è tentare di giustificare lui e colpevolizzare lei, ma è esattamente il contrario, provare a colpevolizzare chi merita di essere colpevolizzato e forse comprendere di più e meglio invece la donna che nei fatti subisce un atto contro la sua volontà e quindi molto spesso rischia di rimanere assolutamente immobile. Le faccio una duplice domanda, almeno andiamo veloce e la lasciamo. Si parla a giusta ragione del fatto che il cambiamento debba partire dal basso, quindi dalla società, dall'istruzione, dalla scuola e anche in questa circostanza dalle associazioni e via dicendo. Se dovessimo individuare questa tipologia di intervento da porre in essere, effettivamente il primo passo da compiere quale sarebbe? E poi un ruolo importantissimo lo gioca anche la comunicazione. Secondo lei la stampa, intesa come mezzo di comunicazione, di informazione ha delle lacune da colmare? Assolutamente sì. Guardi, io direi che partiamo dalle università. Questa è una mia personale fissazione, insisto moltissimo, più che sulle scuole, perché nelle scuole ci arrivano insegnanti che sono formati dalle nostre università, libri scritti da chi ha frequentato le nostre università. Quindi il tema vero è incardinare corsi o ore dedicate esplicitamente in percorsi di studio a questo tema. Non è pensabile che io mi sono lavorata in giurisprudenza, un avvocato possa uscire dalle università senza avere mai incontrato il tema della violenza, perché il tema della violenza maschile contro le donne, non della violenza, ma della violenza maschile contro le donne, come la chiama la Convenzione di Istanbul, come la chiamano tutti i trattati di diritto internazionale, è una violenza specifica che va studiata perché ha delle caratteristiche specifiche, perché si fonda su caratteristiche specifiche, per esempio la differenza notevolmente dal conflitto, il conflitto è tra piari, la violenza è tra dispari, allora sono queste le cose che noi dobbiamo studiare per riconoscere la violenza quando siamo di fronte alla violenza, distinguerla da tutti gli altri tipi di conflitto. Però queste cose devono essere insegnate all'università, nei corsi di studio, non è pensabile, ripeto, che un avvocato esca dall'università, che un giudice esca dall'università e non sappia riconoscere la violenza, così che un insegnante o un operatore dell'informazione, perché oggi anche gli operatori dell'informazione, carta stampata, tv, tendono molto spesso a cadere in naturali, diffusissimi, inconsapevoli, stereotipi e pregiudizi che impediscono loro tanto di leggere la violenza, cioè tanto di riconoscerla, quanto di leggerla e quanto ovviamente poi di raccontarla correttamente, e loro malgrado anche, in assoluta buona fede o in maniera assolutamente inconsapevole, avallare e come dire, confermare e diffondere ancora di più questi stereotipi e questi pregiudizi e inculcarli nella mentalità di ciascuno in maniera anche inconsapevole. Questo vale per chiunque di noi, perché la metà degli italiani e delle italiane nel 2019, secondo l'Istat, tanti poco più della metà, secondo l'Istat pensava che una donna che subisce violenza se l'è cercata o non ha fatto tutto quanto in suo potere per evitarla. È un dato che si commenta da solo. Ci dice molto del tempo e della cultura nella quale siamo immersi. Grazie alla senatrice Valente. Grazie a voi. Grazie.